Il diritto alla salute è un diritto importante e costituzionalmente definito e laddove c'è un diritto c'è qualcuno che ha un dovere. Il dovere ce l'hanno i medici che in autonomia e in responsabilità, con grande senso di responsabilità, portano avanti la tutela di questi diritti. Per far questo ci sono anche, oltre il senso etico, la missione del fare il medico, ci sono anche delle compense burocratiche. L'accesso ai documenti amministrativi sarà così il tema dell'evento formativo patrocinato dalla Federazione Nazionale degli Ottimi dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in programma per il prossimo 5 aprile. Su punti interverranno tre colleghe, l'Avvocato Fabretti, l'Avvocato Desiderio e l'Avvocato Boschello, che si occuperanno di diritto di accesso, con riferimento sia alle ultime novità giurisprudenziali, con riferimento poi specificamente all'accesso ai procedimenti amministrativi, ai procedimenti disciplinari. A questo proposito si affronterà anche il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. E da ultimo l'Avvocato Boschello si occuperà di farci una panoramica su quello che è il difficile bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di accesso. E poi parleremo anche di codici di comportamento dei pubblici dipendenti, con la disciplina dell'accesso e con l'illustrazione delle novità che dovrebbero entrare in vigore entro il 30 giugno 2023. Sarà una giornata di formazione dedicata al personale dipendente e ai membri dei consigli dell'ordine. Perché questo? Perché la formazione ai fini amministrativi sia dei consiglieri che anche dei nostri dipendenti è fondamentale per garantire la corretta gestione degli ordini dei medici, non solo e non tanto ai fini della tutela degli iscritti quanto ai fini della tutela della salute pubblica e dei cittadini.